E' da un po' che ho bisogno di raccontare delle cose, quando sono accadute non sono stato ascoltato nel modo in cui avevo bisogno. Per tanto tempo ho pensato che queste cose fossero accadute un po' per colpa mia e che fossero cose normali, ma da quando è successo sono cambiate molte cose dentro di me e mi riferisco a degli eventi che sono accaduti alle superiori, in specifico in quarta superiore. E a volte mi sento un po' incompreso con le persone che mi sono attorno e sicuramente non è colpa loro perché certe cose se magari non le vivi o non ti capitano sulla tua pelle fai un po' fatica a capirle. Ok, praticamente quando ero alle superiori avevo due insegnanti con le quali non avevo un grandissimo rapporto, una di matematica e un'altra di inglese. Onestamente io non so per quale motivo non avessi un buon rapporto perché chi guarda i miei video lo sa come sono fatto, io ero così anche a scuola, cioè facevo molte battute, a volte magari queste battute potevano offendere qualcuno, lo ammetto, però non sono mai stato una persona che si comportava male o comunque era cattiva o disturbava in modo esagerato l'elezione. Io ero un classico ragazzo che semplicemente faceva tanto umorismo e sicuramente non con queste due insegnanti. La professoressa di matematica poi io all'ultimo anno non ho avuto fortunatamente, ce l'aveva con me. Tanto che una volta senza che io comunque avesse mai fatto niente mi disse che il mio cane che era appena morto era stato investito, lei mi disse che il cane era morto perché non mi sopportava più e questa cosa mi ferino un poco perché nessuno dovrebbe mai comunque scherzare sulla morte e soprattutto sulla morte di un animale. Voglio dire quale razza di persona ti fa una battuta del genere quando il tuo cane è appena morto? Mi aveva, non lo so, mi aveva come schedato nella sua testa come una persona che in realtà non ero, aveva addirittura detto a mia mamma che io ero una persona violenta e io tutte queste cose le ho sempre sapute, non ho mai potuto fare niente, anzi ho dovuto convincere mia mamma che non fosse vero perché lei se l'era impuntato nella testa che io dovevo essere quel tipo di persone quindi mi ha tormentato nel senso che non c'era mai una volta che ad un'interrogazione mi trattasse in modo umano o se io non capivo lei questa cosa me la faceva pesare in un modo più assurdo e questo lo faceva anche con gli altri, però io avvertivo sempre quell'aura di fastidio che le provocavo senza fare assolutamente niente, tanto che una volta ad un'interrogazione io non avevo capito una cosa che mi aveva chiesto e poi ad un certo punto ho capito cosa intendeva e gli ho detto forse ho capito che cosa intende e lei mi ha guardato funerandomi con gli occhi e detto non era quello che intendevo tra virgolette dicendo con il tono maleducato con cui ti rivolgi sempre a me io tono maleducato quale tono maleducato ho usato e non ho fatto in tempo a dire niente neanche scusi perché probabilmente ero stato frainteso e lei mi ha parlato sopra e faceva sempre questa cosa sempre parlare sopra e non lasciarti mai parlare ti attaccava e quando tu cercavi di chiedere scusa perché io sono una persona che chiede scusa perché se io sbaglio e ferisco qualcuno e quella persona me lo dice io chiedo scusa ma non ho mai avuto la possibilità di farlo perché lei parlava sopra perché ti trattava male diceva delle cattivere ti dava dell'imbranato ti dava del pollo della gallina e ti convinceva con questo suo modo cattivo che queste cose fossero vere ma nessuno ti ascolta nessuno ascoltava in quella scuola probabilmente nessuno ascolta nelle scuole perché i ragazzi non vengono presi sul serio perché il dolore che prova un ragazzo soprattutto in quella età che viene maltrattato in questo modo dalle le persone che dovrebbero insegnargli probabilmente la vita non è una cosa da prendere sotto gamba e nessuno credeva nessuno credeva nonostante queste cose fossero dette posso dire che tutto questa cattiveria nei miei confronti io in un modo o nell'altro sono riuscito a metabolizzarla e ad allontanarmi in un certo senso ma con l'altra insegnante l'insegnante d'inglese questa cosa non ce l'ho fatta non ce l'ho non ce l'ho fatta e mi ha mi ha rovinato l'adolescenza e un'altra persona che se l'era presa con me senza motivo forse semplicemente in questo caso perché mi piaceva la materia perché io l'inglese lo amo per me l'inglese come una seconda lingua non è un segreto lo sanno tutti e lei odiava semplicemente questo fatto lei odiava che a me piacesse l'inglese e io l'inglese non lo vedevo come una materia io non l'ho mai visto come una materia essendo che da piccolo cantavo canzoni ballavo e guardavo le cose in inglese l'inglese per me è solo una lingua una lingua come l'italiano quindi questa passione io parlavo io parlavo anche se non si poteva mai parlare neanche nell'ora con il madrelingua perché questa insegnante era come un pitbull che guardava male rispondeva male trattava male e non posso dire non riesco a contare tutte le volte che mi ha trattato male mi ha guardato male addirittura volte quando iniziavo a parlare inglese lei sbuffava e alzava gli occhi al cielo semplicemente per il fatto che io parlavo senza interrompermi o comunque senza difficoltà e questa cosa lei sembrava che la fiutasse le desse molto fastidio una volta stavamo avendo un discorso lei ha ribaltato improvvisamente la cosa ha iniziato ad attaccarmi a gridirmi dire che io dovevo smetterla di vantarmi di credere di sapere le cose essere più umile e questa cosa era nata da nulla e c'erano tutti i miei compagni testimoni che lei prima era normale poi ha tirato fuori questo discorso da nulla non era la prima volta che faceva queste cose perché in altre classi era uscita sbattendo le porte dicendo io non ci voglio più stare con voi mi avete stancato e se ne andava via lasciava la lezione e una volta davanti a tutti mi ha accusato di aver copiato una storia un racconto che avevo scritto perché diceva che io non avrei potuto scriverlo perché avevo sei in italiano perché naturalmente in italiano uno scrive solo storie no italiano è composto da tante altre cose tanti altri fattori e non si scrivono solo storie perché se io in italiano avessi solo scritto storie racconti horror allora avrei avuto sempre dieci no io all'epoca avevo sei in prima superiore e lei mi aveva accusato di aver copiato questa storia in inglese perché pensava che non potessi scriverla nonostante poi mi abbiano difeso i miei compagni di classe io li ringrazio ancora oggi mi hanno difeso hanno detto noi lo sappiamo che lui scrive queste cose quindi è così è dovuta andare a parlare mia mamma con la preside in quel caso e lei stessa ha ammesso che con questa professoressa c'erano dei problemi ma nonostante tutti ammettessero che certi insegnanti avessero dei problemi queste cose non sono mai state risolte non sono mai cambiate tanto che io in quarto superiore ho avuto diversi crolli motivi e mi sono chiuso in me stesso e tante delle cose che prima facevo si sono fermate come la scrittura come i video e ho perso l'ispirazione ho perso la creatività perché nel mio cervello io ho iniziato a sentirmi sempre sbagliato come se tutte le cose che facessi fossero fatte nel modo sbagliato e mi sentivo costantemente criticato perché a scuola ogni giorno ero esposto a queste cattiverie da parte delle insegnanti e in particolar modo sempre quella di inglese è quella che mi ha ferito di più perché lei sembrava non lo so che ci godesse nell'offendermi nel farmi sentire male nel farmi sentire insignificante e una volta mi ha aggredito verbalmente perché avevo finito prima la verifica l'avevo consegnata e lei ha detto che io volevo farmi vedere dagli altri e avevo preso solo 7 e mezzo perché io l'ho consegnata prima e volevo che gli altri vedessero che l'avevo consegnata per prima ma questa non penso neanche onestamente che sia una cosa che umanamente qualcuno faccia almeno io non lo faccio non ho mai consegnato prima una verifica sperando che la gente mi notasse io l'ho consegnata perché l'avevo finita e se ho preso 7 è giusto che abbia preso 7 ma non è giusto che debba essere attaccato perché l'ho consegnata se non ho altro da scrivere se sono sicuro di quello che ho scritto questo è il mio lavoro alcuni prof l'avevano notato che io quell'anno stavo male l'ho peggiorato avevo avevo un'aura di oscurità addosso una tristezza esistenziale e mi avevano mi avevano chiesto di parlarne mi avevano chiesto che cosa stesse succedendo e io ho provato a dirlo ho provato a parlarne sono anche andato dalla psicologa della scuola e cioè io ho detto qual era il problema e non me lo stavo inventando io non mi sono mai inventato il problema il problema c'era e io potevo reagire in mille modi diversi imparare un metodo per reagire per queste cose qua ma ragazzi voi mi potete dire nella vita troverai persone peggiore ma io nella vita ho incontrato persone persone buone persone meno buone persone con le quali non mi sono non sono andato d'accordo fa parte della vita incontrarlo al di fuori della scuola al di fuori della scuola io posso incontrare tutto il mondo ma dentro la scuola dentro la scuola non è giusto che ci siano dei professori che ti vogliono vedere soffrire persone che ti vogliono far stare male e che non ti ascoltano e che dovrebbero insegnarti a stare al mondo a vivere e la scuola alla scuola viene data tutta questa importanza quando in realtà gli studenti non vengono ascoltati non vengono compresi e io tutt'oggi soffro e sto male per quello che mi è successo quell'anno perché io quell'anno ho toccato un livello di solitudine un livello di autocritica che mi ha forantumato qualcosa dentro il cuore e quella cosa sono ancora riuscito a guarirla e io voglio parlare di queste cose perché vorrei che si si ascoltassero di più i ragazzi a scuola perché i ragazzi magari oggi si sono anche magari io sono fragili magari ci sono ragazzi fragili non sono tutti dei pezzi di marmo abbiamo abbiamo bisogno di essere ascoltati se poi dopo non non volete che accadano cose alle quali poi si dice bisognava ascoltarlo bisogna fermarsi un attimo e capire con chi si sta parlando perché una donna con più di 40 anni non può permettersi di trattare male di offendere di attaccare di aggredire di far sentire inferiore un ragazzo di 17 non è giusto semplicemente non è giusto e me queste due insegnanti mi hanno mi hanno mi hanno rovinato quegli anni mi hanno fatto star male perché io andavo a scuola tutti i giorni con l'ansia con la paura la paura di vedere la paura che mi dicessero qualcosa io a volte avevo paura addirittura di vestirmi in un determinato modo perché temevo che mi aggredissero perché avevo un abbigliamento diverso e non sono mai stato ascoltato mai capito in queste cose e a volte il problema non sono i ragazzi il problema non sono io che reagisco in queste cose non sono io che devo devo stare zitto devo ascoltare perché è così che va la vita no il problema sono le persone che vengono inserite in questi ambienti perché una persona che poi dopo in quinta superiore sparisce perché ha avuto un crollo nervoso non merita ripassarla così liscia no non è giusto non è giusto che una persona che mi ha rovinato così tanto in questi anni improvvisamente se ne vada ciao a tutti sono andati in pensione ed è finita così no non è giusto i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati i ragazzi hanno bisogno di essere compresi soprattutto a scuola in un luogo dove andiamo ogni giorno per cinque anni o per le medie per tre anni dobbiamo essere ascoltati non dobbiamo essere trattati come delle mucche non so se un giorno mi sentirò mi sentirò meglio ma sicuramente mi sento bene a sapere che queste parole rimarranno impresse in un video perché nessuno si dimentichi di quello che è successo e probabilmente ci sono delle cose che volevo dire ma che non sono riuscito a dire perché è difficile parlare di queste cose in un modo così aperto ma avevo semplicemente la necessità di parlarne e io sono piuttosto certo che queste cose non siano capitate solo a me ma capitino anche ad altri ragazzi perché ho capito che semplicemente a volte delle persone ti prendono di mira ed è vero e non è una bugia solo perché tu sei un adolescente e questo è il tuo professore il fatto che accadono queste cose io non 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 lo trovo giusto io penso che bisognerebbe controllare quali persone vengono inserite a insegnare a dei ragazzi non è giusto non va bene che si mettano dei casi come questi a trattare mali ragazzi a trattare male le persone e poi dopo semplicemente passano alla classe successiva traumatizzano altre persone poi vanno in pensione e sono a posto per il resto della vita no nella scuola ci devono essere persone preparate persone che vogliono bene ai ragazzi che hanno piacere di venire ad insegnare e io di queste persone le ho avute ma ho avuto anche questi casi e io sono qui a dire queste cose perché non voglio che capitino altri eventi del genere perché io sono qui a raccontare queste cose ma ci sono tante persone che a causa del bullismo che a causa dell'odio che hanno provato nell'ambiente in cui dovevano stare al sicuro non possono essere a raccontarlo ci sono dei giorni in cui mi sveglio e c'è solo il vuoto dentro di me sento delle sensazioni che mi riportano a quegli anni al 2017 a quando ero in quarto superiore e a quando sono stato trattato in quel modo da questi due insegnanti e quei giorni fanno fatica ad andare via devo lavorare molto dentro me stesso per scacciare quei pensieri e sostituirli con altri o semplicemente affrontarli per l'ennesima volta e ripeto che non è giusto che mi debba sentire così non è giusto quindi è per questo che ho voluto raccontare questa cosa che per me è molto 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 personale che io non riesco mai a dire a tante altre persone perché a volte semplicemente è difficile ascoltarti e comprenderti a volte qualcuno ti deve semplicemente giudicare ti deve ascoltare e ti deve criticare ti deve giudicare perché non tutti sono in grado di ascoltarti come questa videocamera che sta semplicemente zitta ti dà il tuo spazio ti dà la possibilità di parlare ci deve sempre essere un giudizio deve sempre esserci qualcuno che cerca di dare la colpa a te ma la colpa in questo caso non è mia le cose le cose sono andate così e io le ho raccontate nel modo in cui sono andate non ho cambiato niente però sicuramente ho tralasciato qualcosa ho tralasciato cose che anche il mio cervello ha voluto dimenticare ma questo è il trauma che io ho subito a scuola e voi lo sapete mi seguita nel canale la mia vita non è il mio trauma la mia vita non è questo però è anche questo e quando io sparisco che non mi vedete per dei mesi e cose così questo è tutto tutte quelle cattiverie quelle violenze che mi ritornano a tormentare e mi allontanano mi allontanano da quello che è la mia passione da quello che mi piace perché in un modo o nell'altro riesco sempre a sentirmi nel torto sbagliato quando invece non è così e io spero che qualcuno guardi questo video e mi supporti e possa sentirsi in grado di condividere la propria storia anche con me o con gli altri o comunque bisogna parlarne perché parlatene parlate con più persone che potete e se queste persone non vi ascoltano parlatene ancora continuate a parlarne finché il messaggio non arriva so già che mi metterò in una brutta posizione probabilmente pubblicando questo video ma non mi interessa non mi importa se qualcuno mi dirà che devo crescere come qualcuno ha già fatto in un video sul bullismo che è stato in grado di dirmi che ero patetico per parlare di quelle cose ho condiviso la mia storia e in qualche modo voglio giustizia per quelle cose che sono capitate fine questo è il video non c'è e non c'è nient'altro da dire al momento ciao 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 Grazie.